ciao in questo video giocheremo a braccio di ferro chi sarà la più forte che vince oggi braccio di ferro tu irene va bene ok allora vediamo la formazione ciao emma mi aiuti ok chi è che è chi è la prima coppia che si sfida eva e bea eva e bea pronte va bene così o volete lo step sotto va bene ok vai lì tieni il polso o se l'aspetta lo fai tu emma andrea riesci a mettermi i punti stai andando la prima squadra la prima coppia che eva e bea allora quando volete è male il sistema bea fortissima prima sfida vinta da bea chi vuoi adesso andrea irene contro joy aspetta però decidete se tu sei sinistra ma tu sei sinistra la mano no è che si tiene dai 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 che sfida dai 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 Letizia è rosa. Letizia è rosa. Dai! Dai! Muoviti! Dai Rosa! Dai Letizia! Dai! 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 Oh no! Dai! Eeeh! Vince Letizia! Vedi che cosa mi ha dato? Brava Rosa però eh! Camilla contro Edward. Siete pronti? Siete pronti? Camilla contro Edwarda e dai του. Dai Camilla. Dai Camilla. Dai Camilla. Bella Ang minutes. Bella sfida eh! Bessante! Dai! Dai dai! Dai 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 dai! Dai! Come dobbiamo? Dammi Quarto di finale No, non è vero, siamo la semifinale Però è vero, lei è sinistra Qua come la giochiamo? Perché Una è sinistra e l'altra è destra Devono decidere qual è il braccio che vogliono Non possiamo farlo diversamente Perché c'è sasso Dai Anzi, c'è un testo No, per la sasso Sassu, cattaco, vince Vai, vai, vai Sassu, cattaco, vince Sì, vince Allora Pronto? Via Che faccia che ho, è vero Trava, dai, dai Che vero scoletti che ha Vince Irene Eh, l'hai detto che vincevi te È convinta? Letizia contro Eduarda Letizia Eduarda Respira Leti Sì, non sposta Letizia Eduarda bravissime bellissima sfida ora c'è la finale Irene contro Eduarda adesso non vinci è destra o sinistra Irene con Eduarda respira un attimo Eduarda poi mi prepari per la seconda per il secondo posto ok dai salto vince allora chi vince tra le due è la campionessa di oggi di braccio di ferro sai quando ti conveniva Maria a destra che lei a destra ora è più stanca perché appena ho fatto volare e ti è pronte via dai vai e guarda non va a staccare il gomito dai 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 mi dispiace brava Edoarda la campionessa di braccio di ferro di oggi prima Edoarda seconda Irene per il terzo posto si sfidano Bea e Letizia Bea e Letizia esatto fate il sasso carta formice ma guarda come sono messe non sono neanche piegate le braccia ragazze piegate un po' le braccia avvicinatevi ok dai infatti metti le mani bene ok 3 2 1 via dai terzo posto per Letizia bravissima allora vedete che qualcuno è assente qualcuno è assente perché Giardi è partita per andare a fare la gara in Corea non mi rimane in mente e invece la Lemmina è in vacanza giusto? però torna fra tre giorni e quindi è per quello che c'è qualche assente va bene? ok tanto Andrea sta giocando con la Letizia ciao 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 Oh!